Il mio figlio è il mio figlio Io saluto chi ci firma, c'è Valentina Comunque le regole sono sempre le stesse Non prendere, non prendere, non prendere, non scuola Una cioffecata no? Vabbè dai Non c'è 3 roshanboh 1, 2, 3 K-flip Ah no Flip Flip Io mi metto a seduta Bravissimo C'è la casa più grande Nolli Come si fa a sbagliare Nolli? E' colpa della copertura del cazzo che c'è qua Esatto Nolli Fransif Nolli Fransif Yes S Traflip Switchy Nolli Ok Io mi sento stretto lì Quindi mi metto qua perchè era con il posto principalmente Comunque Fransiflip 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 Yeah Si dai ma è come fare una game of skate Tra un pro e me Si Si vabbè ma siamo in game Eh infatti Facciamo Nolli Fransiflip Siamo a Ska a 0 Nolli No 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 Trova tu Dai Ma perchè? Fransiflip SS S Non li traclip No Non li flippo Ok Ska Ska Fransiflip Oh Ska Siamo a pari Switchy 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 Switchbacksiflip Switchfransiflip Basta Switchflip Basta Scat Ehm Ha ha flip Ha stretto il culo Ha ha stretto il culo Bk stai flip Se lo fai alto così ticco backseat flip oh non li backseat questo qua si è non li hard flip non li 3 flip ma qua mi sa che adesso mi devo andare a casa no mi sa che adesso era away eh no c'era un finger on the floor quindi forse no niente vai in flip no perché tu tu stai a fare non li non li 3 flip no non li 3 flip non li 3 no non li 3 flip vedo vedo bravo non è giusto bercy dolly bercy dolly switch nolly 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 flip nolly flip nolly flip no non li 3 flip il flip adesso l'ho chiuso adesso l'ho chiuso non mi avete inquadrato eh stavo inquadrando lui che non ha fatto il trick quindi vai non li 3 flip oh dai ma non è giusto dai ridù no vabbè tocca a te vai non li 3 flip no non li 3 flip oh dai qualcuno lo chiuderà eh non li 3 flip oh no oh io sono scat però qua c'è una cosa strana e l'ha chiuso al first drive grande si può essere se sono delle assi unite lì no non li varia il flip no mi ha venuto il flip più se li ha scat lui ha scat si e l'ha chiuso al first drive switch 3 flip oh 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 no c'è un fuori non mi è mai venuto così oh oh sei un bastardo sei un bastardo sei un bastardo proprio fichi francesi flip vai fichi che fai che cos'era? fichi francesi cera si 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 ti scatta scat 3 flip di vario no eh i raudi cosa costano? 1 euro e 10 1 euro e 10 1 euro e 10 1 euro e 10 1 e 50 vai non li back city non mi viene quello che fanno non riesco a doppare qual è la noz questa? no yes io direi di due no vabbè grazie a Dio no vai basta adesso c'è il mio trick no no cos'era? no non c'era riduca dai su riduca e c'è ed è out ho vinto? si questa storia